Ciao ragazzi e ciao ragazzi! Allora, faccio vedere le mie mani, l'ombra delle mie mani, ma presto cambieremo location e torneremo a quella abituale. Allora, andiamo avanti con gli interattivi. Questo interattivo che si compone di due varianti, anche perché voglio dedicare un pochino più di tempo e approfondire un po' di più anche gli interattivi generali e gratuiti. Quindi ho utilizzato molti mazzetti, molte carte, perché in questo modo possiamo cercare di fare un po' più il punto sulla situazione. È un rischio ed è un'opportunità, è il rischio perché andando a specificare troppo poi magari meno persone possono riconoscersi nella variante. Però è anche un'opportunità perché magari riusciamo a fare il punto su qualche cosa che con le tempistiche di un interattivo generale a 3-4 varianti ci sfuggirebbe. Allora, cerchiamo di fare il contesto, di creare un attimo il contenitore di queste due varianti. La persona che mi ha chiesto l'interattivo ha una situazione del passato che vorrebbe dimenticare, cioè questa situazione è ancora presente. La sua domanda è, riguarda una relazione finita male. Riuscirò a, testuali parole, chiudere nell'armadio dei ricordi questa situazione e ad andare avanti, magari anche ad iniziare una relazione con la R maiuscola. Una situazione pulita, pura, qualcosa che ci possa far bene, qualcosa attraverso il quale essere felici e crescere. Quindi, questa è la premessa. Vi consegno tutta la richiesta in modo che possiate poi scegliere come contestualizzare meglio. Perché magari qualcuno vorrà dire semplicemente, interroghiamo l'interattivo chiedendoci se riuscirò a dimenticare questa cosa in maniera molto più veloce e ad andare avanti. Ciascuno di voi è libero di investire emotivamente e razionalmente quanto più ritiene utile della propria situazione. Quindi, approcciate sempre gli interattivi, innanzitutto come delle storie, non sono vangelo, non sono verità infuse, sono delle storie che possiamo paragonare alla nostra di storia, dalle quali magari trarre dei suggerimenti o dei punti di vista diversi che normalmente non avremmo incontrato nella vita di tutti i giorni lungo il nostro cammino. Quindi, noi siamo solo dei ricercatori che cercano di conoscere meglio se stessi attraverso anche le cose che durante il corso della nostra esistenza ci capitano. Allora, prendetevi il tempo necessario, scegliete la vostra variante, variante gialla e variante verde e io direi di cominciare. Allora, eccoci qui. Allora, cosa facciamo? Perché poi ogni mazzetto ha una sua specificità. Io direi di cominciare, ho utilizzato le carte del Transurfing per cominciare. Vediamo qual è la parola chiave di questa, diciamo, situazione. Cosa è successo? Cosa può aver fatto o ciò che riguarda la vita di lui o lei, a seconda che voi siate uomini o donne? Il consiglio per noi è, a finire, con un arcano maggiore, vediamo sotto quale energia, quale dinamica energetica questa situazione comunque si trova a evolverà, si trova ad essere. Quindi, che tipo di energia dalla fine della stesura, ovviamente, quindi dal punto raggiunto a seguire, abbraccerà, conterrà, muoverà questa situazione. Bene, iniziamo un po', vediamo cosa abbiamo qui. Qui, innanzitutto, dobbiamo fare il punto su una situazione. Dobbiamo avere il coraggio di rialzarci qualunque sia la situazione che abbiamo vissuto e qualunque sia lo stato d'animo. Magari abbiamo accusato un colpo molto forte che ci ha debilitato, non perché non siamo in grado di reggere quel colpo, perché poi la vita magari ci ha fatto far veramente muscoli già con altre situazioni, ma perché è arrivato improvviso. Allora, questa è la carta dell'equilibrio, ma è anche una carta a dodici. Abbiamo una sorta di appeso al contrario, direi, per fortuna. Tanto è vero che questo appeso, che tra l'altro ricorda una croce, in questa posizione sta muovendo un passo. Quindi ci stiamo innanzitutto rialzando e abbiamo anche, quantomeno adesso, la volontà, poi vedremo se è anche la capacità di separare gli elementi. Qui abbiamo l'acqua e il fuoco, ovviamente una simbologia, quindi due elementi opposti. Il bianco, il nero, il bene, il male, il sopra e il sotto, quello scegliete voi. Perché è semplicemente un'indicazione che ci dice che noi adesso abbiamo la forza, siamo caparbi abbastanza, abbiamo la capacità e anche la possibilità, nel contesto stesso che stiamo vivendo, scusatemi, di vincere. Una parola che sta arrivando, di vincere tutto ciò che ci ha oppresso fino ad ora. Anche questo stendere le braccia è quasi voler dire, mi riprendo i miei spazi, nonché pongo una distanza tra me e te. Beh, poi per fare una battuta, questa carta ci sta benissimo col periodo del coronavirus, a un metro di distanza. A Roma dicono a un parmo da, quindi per questa prima variante possiamo dire, vediamo quello che verrà fuori. Già la domanda, riuscirò a chiudere tutto nell'armadio dei ricordi? Quindi direi quasi di sì, perché qui quantomeno l'armadio lo abbiamo spalancato, proprio il gesto di aprire le ante di un armadio. Ma la cosa bella di questa richiesta che mi è stata fatta, non è tanto riuscirò a dimenticare e passerà, ma riuscirò a chiudere nell'armadio dei ricordi. Vuol dire, io voglio lo stesso trattenere questa cosa, ma ne voglio fare, un'energia che non mi fa più male. Voglio che sia un qualcosa a cui io posso tornare con la memoria, anche effettivamente, osservando quel che è stato, traendo la mia lezione, ma senza più soffrirne. Ebbene, sì, per questa prima carta vi posso dire che avrete la capacità addirittura di andare a aprire quell'armadio e guardarvi dentro. Perché poi nascondere una cosa, anche sotto il tappeto, e non vederla più, è semplicemente posporre il problema, accantonarlo, negarselo, metterlo nell'inconscio, ma poi quel qualcosa è sempre lì presente. Invece qui abbiamo la forza e la capacità di convivere con quel che è stato. E anche una serenità ritrovata, che richiede comunque un atto di volontà. Cioè, guardate questa carta come ha i muscoli ben delineati. I muscoli non arrivano così tanto per, non giungono dall'alto. Se ho un muscolo oggi è perché ho fatto gli esercizi ieri, quindi mi sono impegnato, ho sudato, ho sofferto. E quindi, ragazze, come chiave di lettura per questa prima variante direi che cominciamo abbastanza bene. Vediamo un pochino che cosa può essere successo. Allora, qui abbiamo il matto. Allora, 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 molto probabilmente la situazione è una delle classiche situazioni, dico classiche non per banalizzare ma solo perché ritengo che lo sia, in cui la persona a cui stiamo pensando, come è entrata nella nostra vita, con la sua leggerezza, con la sua purezza, con la sua curiosità e simpatia, con la sua luce, cioè ha illuminato per un periodo la nostra quotidianità, ma come è arrivata se n'è andata. Cioè, non si è radicata. E nel non radicarsi, magari, ha sortito l'effetto opposto a quello che avrebbe voluto. Cioè, lei, questa persona, non si è radicata ma non si è resa conto che nel frattempo siamo stati noi a radicarci a lei. Nel momento in cui questa persona se n'è andata via e noi non abbiamo potuto abbandonare la nostra di quotidianità, ha strappato le radici, è come se ci avesse strappato le vene. E quindi la sofferenza l'abbiamo sentita, altro che. E probabilmente, se noi eravamo radicati in questa persona, a questa situazione, in questo contesto, potrebbe anche, colui o colei di cui parliamo, avere agito male. Perché quello che per noi era un collegamento, queste radici, e che abbiamo anche sofferto nel vedere recise, per questa persona si sono trasformate in una sorta di lacci, di catene. Quindi porrebbe addirittura averci rimproverato di essere noi la colpa del suo andarsene, perché soffocavamo la sua vita, perché limitavamo la libertà, e perché in fondo lei non aveva mai promesso nulla di quello che ora noi stiamo chiedendo. E fin dall'inizio era stata una persona sincera. Io ora ci sono, ma ci sono le mie regole. E noi invece, buoni e fedeli come questo cagnolino, anche se trattati male, siamo sempre tornati ai suoi piedi. E questa è stata la cosa forse peggiore, che ci rimproveriamo di più, di esserci fatti un pochino zerbino per questa persona. Ne siamo usciti un po' con la testa fasciata. Qua, che dire, il lavoro è stato tanto, e se noi ce la facciamo ancora oggi a trascinarci, e siamo riusciti a recuperare quella posizione eretta, da quel sacrificio volontario di un appeso, che nella prima carta sembra aver capovolto finalmente la sua situazione, ecco, questa carta mi fa pensare proprio all'appeso che cade, la prima cosa che sbatte cos'è la testa. Quindi nel momento in cui noi decidiamo di non voler più subire il sacrificio volontario o non volontario, ma conseguenza delle azioni altrui, noi sì ci dimeniamo e ci liberiamo, ma come prima cosa sbattiamo la testa. Come facciamo a rialzarci solo una grande forza di volontà? Che cos'è la forza di volontà? È quel lavoro concreto, reale, che noi abbiamo fatto, fuori e dentro di noi. Abbiamo i bastoni, questi bastoni che, piantati a terra, vedete, fanno vedere dei germogli, quindi un qualcosa che apparentemente potrebbe sembrare morto, come oggetto inanimato, come un bastone, noi lo stiamo nuovamente piantando a terra, e non essendo morto assolutamente, perché ancora c'è forza, c'è volontà, c'è vita, questo bastone si sta radicando per diventare nuovamente un albero. E uno di questi bastoni è anche quello a cui noi ci stiamo appoggiando, ci stiamo facendo forti della nostra forza, quindi innanzitutto ragazzi e ragazze vi dovete veramente riconoscere un merito enorme, quello di aver sì accusato il colpo, ma di non aver mai perso la fiducia in voi stessi, e non era una cosa scontata. E soprattutto non è scontato datosi che avete sbattuto anche la testa. Che cosa vuol dire sbattere la testa? Nella testa ci sono i ragionamenti, ci sono i pensieri, anche tutto ciò che noi abbiamo ipotizzato sul futuro, sul passato. Quando eravamo insieme nella nostra testa sono nati i pensieri del futuro, quelli che oggi ci fanno soffrire perché poi la realtà non si adegua magari ai nostri sogni. E adesso invece ci sono ricordi del passato, quindi questa testa che non è mai in pace con se stessa, che è sempre lì. Però la quotidianità che dice fermiamoci un attimo, rimaniamo un attimo appoggiati alla nostra stampella spirituale, metaforica, rimaniamo un attimo, ragioniamo, osserviamo di nuovo questo passato e cerchiamo di capire cosa è accaduto. Vediamo un po'. Ed eccolo qua, meraviglioso. Guardate queste due carte. E tra l'altro, guardate come si somigliano in questa T, che in entrambe è presente, sia in questo appeso capovolto, cioè nella sua posizione congeniale, che in questa carta qui, che noi associamo all'appeso solo per il numero, visto che comunque nelle carte del Transurfing non ci sono gli arcani maggiori. E guardate poi la cosa particolare. Guardate la luce emanata proprio da questa testa. quanto avete pensato, quanto avete sofferto e soprattutto prima di accettare, di cadere, sbattere la testa e risollevarvi, forse avete raggiunto il momento massimo di quelle che potremmo definire paranoie. Paranoie intese poi come stress molto, molto, molto forte. che però ha anche in parte illuminato la vostra scelta. Ed era un sacrificio, sì, un sacrificio dal quale avreste anche potuto staccarvi prima, ma ce n'è voluto. Voi avete vissuto una lotta interiore molto, molto forte. avete cercato fino all'ultimo momento di salvare il salvabile e oggi che finalmente riuscite a vedere nuovamente la situazione dal verso giusto, vi chiedete come ho potuto sopportare per tutto questo tempo. Il sangue mi va alla testa, la rabbia. Come ho potuto vivere in un clima di rabbia che poi, essendosene andato o essendosene andata lei tranquillamente, è stata una rabbia che si è riversata su di me. Vediamo un pochino lei o lui cosa ha combinato. Allora, bello perché si ripetono tutti questi dodici. A noi piacciono questi dodici. Allora, sicuramente l'ingresso di questa persona nella nostra vita, anche quando le cose andavano bene, ma io credo che per voi in realtà una sorta di sesto senso, di qualcosa che non vi quadrava, c'è stato sempre fin dall'inizio, però evidentemente l'attrazione, la passione, il sentimento che vi ha mosso verso questa persona vi ha un pochino affoscato la mente. O meglio, voi vi siete detti, sì, lo so, andrà a finire male, però me la devo giocare. Quindi era come se foste stati di voi stessi una sorta di Tiresia, di Cassandra, di Veggente. E quindi da un lato già sapevate l'esito della situazione, però avete comunque voluto affrontarlo. E forse questa coscienza, anche ciò che adesso, vi fa tirar fuori la forza, perché voi non potete ingannarvi. Voi lo sapete che non è il contesto, non è il destino che vi ha imposto questa prova e questo sacrificio. Questa debilitazione, ma è stato un vostro azzardare. Voi avete accettato la prova, mettendo in conto tutti i rischi. E questa è una cosa importante, perché denota in voi una grande consapevolezza. Ed è anche bella, perché nonostante si possa essere consapevoli, siamo sempre su questa terra, quindi fondamentalmente nessuno di noi è chiamato alla maestria spirituale, anche se al cammino. Però noi non siamo di monito verso nessuno, noi siamo esseri umani imperfetti e se siamo qui anche per provare, per fare esperienza, e nel fare esperienza anche provare la sofferenza e il dolore, non solo la gioia, perché sarà un qualcosa che ci tempererà e tempererà soprattutto la nostra anima. Quindi cosa è accaduto? La presenza di questa persona nella vostra vita vi ha debilitato, un pochino fin dall'inizio, fino a quel sacrificio totale, alla fine, quando voi, nonostante il suo essersene andati, siete rimasti totalmente vincolati, attaccati, condizionati dal ricordo di lui. Questa carta mi fa pensare sempre anche all'iconografia della pietà di Michelangelo. Cosa dire? La cosa forse che avete accusato di più è stato che voi, verso questa persona, più ancora che passione proprio carnale, avete dato cura e amore, l'amore di una madre. Sia che voi siate uomini o donne, avete dato un'attenzione rara e molto preziosa che questa persona probabilmente non ha né capito né apprezzato. Ed è stato proprio questo che forse vi ha deluso ancora di più, non tanto il comportamento che la persona ha avuto, ma il fatto che non sia stata abbastanza matura da poter riconoscere il valore che si è trovata tra le mani. Abbiamo una carta della gelosia, una carta che comunque ci fa vedere una persona provata, a terra, sacrificata, e direi che molto probabilmente questa è una carta che si riferisce più a voi che non a voi e lui e lei. Qui c'è stato proprio un sacrificio e lo ribadiamo con l'appeso di prima volontario al quale vi siete sottoposti e lo avete fatto pur sapendo il rischio a cui andavate incontro. Forse perché avete pensato arrivo fino a un certo punto poi mi fermo, non tocco il fondo. Solo che poi magari vi siete ritrovati in quella zona un po' di limbo, una via di mezzo dove il fondo ancora non l'avete toccato, la situazione non tornava come prima e c'era una latente sofferenza accettabile quando ci si fa l'abitudine, ma non accettabile se dobbiamo rispettare la nostra dignità in primis. Quindi a un certo punto vi siete trovati lì a dire ma questo coltello lo affondo o non lo affondo? Cioè il colpo di grazia me lo do o non me lo do? Vediamo le carte che seguono perché quello che io sento è che questa persona comunque secondo me è sparita o all'improvviso o dal momento in cui è sparita non si è fatta più sentire. Cioè voi vi siete trovati molto a dover dialogare con voi stessi. Cioè quella tensione data prima anche alla testa come elemento del corpo tanto è avvenuto all'interno della vostra testa molto anche della pancia e del cuore quindi delle passioni e dei sentimenti ma tanto proprio al pensiero che non vi abbandona. E cosa? Infatti siamo prigionieri siamo prigionieri e ci siamo imprigionati a questa persona a questo carceriere e questo è quello che è accaduto anche nel mentre questa persona è stata nella nostra vita è come se noi ci fossimo da soli condannati accettando in parte di buon grado in un primo momento questa condanna non solo ci siamo condannati alla prigionia sembra quasi il gesto del pollice in giù al colosseo con i gladiatori lo diamo il colpo di grazia? No vabbè dai non diamo il colpo di grazia però lo teniamo lo incateniamo facciamo lottare poi in seguito lo facciamo diventare nuovamente un combattente contro le belve per dire lo utilizziamo per il nostro divertimento in che senso? Si deve essere creata tra di voi a un certo punto una dinamica per cui l'altra persona aveva potere su di voi e lo sapeva voi e noi riconoscevate coscientemente o inconscientemente questo potere l'altra persona si approfittara anche di voi forse a livello pratico probabilmente anche a livello semplicemente energetico cioè di dominio io comunque ti controllo io ho un dominio su di te io gestisco in fondo la tua vita e sono un pochino diciamo la causa di gioia e sofferenze perché quando noi siamo in grado di condizionare un'altra persona beh ci vuole la persona veramente saggia e illuminata non godere di questo potere perché altrimenti diciamo siamo un po' lusingati di avere un un che di magnetico sulle altre persone qui per molto tempo siamo stati quindi imprigionati imprigionati e abbiamo accettato anche un po' di buon grado questa prigione e questa è stata la situazione più o meno finché siamo stati con questa persona vediamo un pochino meglio cosa potrebbe essere accaduto nell'altra carta e vediamo cosa invece dovreste fare tu alla fine vi siete troati soli allora probabilmente va detta una cosa se non fosse stata questa persona in un modo in un altro anche in modo poco garbato ad andarsene voi avreste continuato ancora per molto tempo a restare in questa prigionia perché probabilmente è stato proprio il pensiero che vi ha continuato a vincolare a questa persona abbiamo la solitudine sembra un pensatore sembra quasi un filosofo fermo lì a riflettere probabilmente quando questa persona è andata via voi siete rimasti ancora imprigionati a lei incatenati a lei a livello appunto di riflessione e di ricordo e poi vediamo se riusciamo finalmente a mettere da parte questo ricordo anche se la prima carta ci dice di sì che siamo arrivati a un punto in cui possiamo riprendere il cammino dopo aver sbattuto la testa a terra è stata una benedizione il fatto che nonostante tutto questa persona se ne sia andata perché altrimenti voi avreste continuato all'infinito cioè finché questa persona sta con me purtroppo pur riconoscendo il rischio la sofferenza che vivo io non me ne tiro fuori e vediamo un pochino vediamo un po' su di voi cosa abbiamo cosa abbiamo allora il vostro punto di vista sulla situazione voi avete cercato fino alla fine di giustificare questa persona l'avete giustificata pensando ai suoi problemi non è troppo giovane no devo affrontare una situazione ha cose da risolvere non lo fa apposta forse sono io il problema vedrai che poi andrà tutto bene raccoglieremo i nostri frutti se sta lavorando sta lavorando per tutti e due quello che sta facendo comunque include anche me ecco il problema è stato questo che lui fondamentalmente o lei che dir si voglia innanzitutto è molto giovane e se non è giovane fisicamente lo è mentalmente quindi anche in parte infantile e nell'essere infantile non nel senso profondo e diciamo utile nell'essere ingenui oppure come dei bambini qui abbiamo un infantile che sembra più un adolescente che non sa quello che vuole oltre a non sapere quello che vuole c'è tanta carne al fuoco e soprattutto vuole dimostrare vuole insegnare ha forse avuto dalla vita le cose facili prima ancora della maturità aveva già i frutti accanto a sé quindi probabilmente è una persona che se la passa bene economicamente o comunque ha delle conoscenze delle parentele è una situazione tale per cui quando compie degli errori c'è qualcuno che li va a risolvere quindi è una persona che nonostante tutto vive in maniera abbastanza serena dico nonostante tutto perché poi magari entra nella vita di altre persone e anche lui è causa del gran casino che vi siete trovati a dover affrontare trovate a dover affrontare tendenzialmente non si radica questa persona e se anche avesse avuto altre relazioni nel frattempo ne ha di nuove adesso sono sempre di passaggio è un fuoco di paglia quello che regge in mano sono delle sterpaglie e dell'erba non è un fuoco diciamo destinato a durare e soprattutto deve stare attento perché il suo ha un fuoco lasciato libero in un contesto in cui potrebbe anche creare dei disastri quindi deve anche imparare probabilmente quello che lui sta causando agli altri a se stesso serve anche per imparare pian piano a maturare e a gestire meglio anche lui per sé la sua di esistenza cosa avete fatto voi per questa persona avete addirittura abbandonato situazioni sicure e care e quotidiane tanti potrebbero essere andati contro la famiglia contro una sorella un fratello un amico qualcuno che dal canto suo può aver diciamo svolto il ruolo di consigliere di persona che ha aperto gli occhi e che può aver detto guarda questa situazione ti causerà solo che problemi ti stai andando a diciamo arenare in un contesto che non ti appartiene in un contesto dove non ci vedrai chiaro non è una situazione adatta a te lascia perdere lascia andare però voi vi siete ribellati a questi suggerimenti perché sebbene coscienti che il suggerimento era sincero e molto probabilmente anche molto azzeccato voi avete seguito comunque anche i vostri istinti cioè qualcosa di molto forte vi ha spinto ad intraprendere una strada sconosciuta e che portava in questo sottobosco nel quale diciamo sarebbe stato anche difficile uscirne senza non dico problemi ma contomeno un po' di paura entrare in un bosco sconosciuto magari seguendo persone con le quali non si ha grande affinità non è sicuramente la cosa più semplice da fare cioè voi vi siete gettate o gettati avete con coscienza deciso di abbracciare l'incognita ecco perché poi nonostante tutto non ve la potete neanche prendere troppo né con gli altri né col contesto perché la vita ha fatto di tutto per mettervi in guardia voi lo sapevate avete liberamente scelto di andare allora cosa dire questa è una carta bellissima che tra l'altro abbinata anche alla carta degli amanti tendenzialmente è positiva qui potremmo dire perché se guardate in entrambi c'è uno scenario in cui sembra esserci un tramonto allora questa carta dalle luci fa vedere un sole basso che fa le ombre lunghe quindi probabilmente il modo più utile per interpretarla sia l'ultima per interpretarle è quello di valutare la fine di un qualcosa ora ora ripeto diamo adesso un'interpretazione generale e contestualizziamo meglio con le carte che seguiranno e ritorniamo soprattutto sulla domanda iniziale qui abbiamo una persona che nonostante tutto è in buona forma anzi è in gran forma con un tramonto alle spalle un tramonto al quale vengono anche date le spalle mentre nella carta di prima è come a guardare un orizzonte che si sta per salutare per sempre secondo me voi ancora non avete deciso fortemente di riprendere la vostra vita siete contrastati da una sensazione che dice lo devi fare innanzitutto perché ti devi amare perché lo meriti perché la vita non è finita qui allo stesso tempo però c'è qualcosa che vi trattiene e che vi spinge a dare le spalle voi non volete vedere ma voi non volete neanche vedere questo ricordo quindi secondo me chi ha scelto la prima variante riuscirà a chiudere il ricordo nell'armadio però deve fare attenzione ad una cosa chiuderlo non deve significare ignorarlo perché abbiamo visto dall'inizio che avete la forza per affrontarlo per guardarlo in faccia senza dare le spalle e per avere anche la capacità di dire questo è un tramonto domani è davvero un altro giorno ma non un altro giorno per piangermi addosso per ricordare è un altro giorno per cominciare un qualcosa di nuovo vi dovete comunque mettere a nudo con voi stesse dinanzi a questa situazione allora io direi di vedere l'altra carta tenendo ancora presenti queste due perché secondo me il significato ancora non è esaurito in quello che abbiamo detto e abbiamo la carta del diavolo eccoci qua allora la carta del diavolo ci parla sostanzialmente di bugie e quindi potremmo dire vi state ancora un pochino mentendo è la carta della situazione poco chiara del vincolo del legame del turbamento però è anche la carta della fine di qualcosa tecnicamente tra una vita e un'altra c'è la morte perfetto oppure c'è l'attimo di oblio tra un'incarnazione ed un'altra però nell'immaginario comune muori e vai o in paradiso o in purgatorio o all'inferno per la nostra cultura comunque vai nel bardo in una zona di mezzo cosa accade queste tre carte ci dicono che qualcosa è andato a tramontare ma era un tramonto che avete intravisto fin dall'inizio eppure avete voluto intraprendere questa strada o siete rimasti nella titubanza quale sarà la strada migliore ho paura che abbandonare il conosciuto mi porterà verso un fallimento verso la sofferenza a distanza di tempo non potete che riconoscere che la sensazione iniziale era ed è stata veritiera anzi adesso appare in tutta la sua forza vedete addirittura il sole non ci sono più gli ostacoli è proprio dietro di voi lo sentite sulla pelle con il suo calore e per quanto voi lo vogliate ignorare c'è la situazione è tramontata è chiusa ma dovete fare un atto di libera volontà per andare avanti perché è come se finita una situazione una vita voi vi trovaste in questa zona di mezzo che possiamo far corrispondere nell'immaginario all'inferno o meglio l'inferno qui perché la carta è venuta fuori la carta del diavolo ma semplicemente quella zona di mezzo tra una vita che si è chiusa e una che deve iniziare è come se voi stesse tergiversando abbiamo non so l'operaio del bardo che vi dice senti ma le abbiamo firmate queste carte siamo pronti per la nuova incarnazione vogliamo andare avanti vogliamo riprendere la vita e voi lì a dire no guarda un secondo ho sbagliato sto finendo di rispondere al questionario e non posso cominciare aspetta fammi finire appena ho fatto ci sono le persone quasi a darvi così pressione cioè dai alzati dai riprendiamo il cammino riprendiamo il cammino perché guardare queste due carte è la posizione delle gambe è tutte e due che danno le spalle a qualche cosa come ad ignorare un qualcosa e voi che volete stare lì con il vostro fantasma nonostante tutto a ricordare allora ragazze sappiate che qui queste re carte ci dicono semplicemente che quello che avete sentito all'inizio sia rivelato tale e dovete avere il coraggio voi di rimettervi in cammino e la risposta non è tanto riuscirò perché c'è un qualche fattore esterno che vi libererà da ricordo di quella persona quella situazione a mettere tutto nell'armadio e ricominciare voi avete il destino proprio di ricominciare ma già da un bel pezzo quindi dalla prima carta qui ci sono tutte le condizioni per poter andare avanti e ricominciare dovete però smetterla di perdere tempo e di tergiversare vediamo verso cosa si fa però verso un nuovo inizio guardate tra l'altro il bagatto però è un nuovo inizio un po' confuso solitamente il bagatto lì con il suo tavolo tutti gli strumenti qui siamo ancora a terra cioè è sintomatico questo non volersi alzare anche se le carte ci dicono che ce la farete perché poi l'avete visto le prime carte anche qui una persona che alla fine l'ha dovuta sbattere con la testa a terra si è dovuto rialzare e si è rialzato appoggiandosi a qualcosa a qualcosa che magari fa parte della sua crescita spirituale qui per muovervi non arriverà qualcuno a sollevarvi dalle braccia che farvi riprendere il cammino siete voi che vi dovete alzare quando mai si è visto un bagatto a terra cioè qui si è visto però dico in generale con le gambe piegate guardate tutte e tre queste donne che danno sempre le spalle a qualcosa che non vogliono vedere qui stiamo quasi impregando con il cielo per dire dai cancellamelo questo ricordo cancellami con questo essere anche tormentato la notte fammi ricominciare e da su qualcuno che vi vorrebbe dire ma veramente sei libero le gambe sono libere non sei più appeso ma lo vogliamo riprendere questo cammino cosa dobbiamo imparare da questa situazione dobbiamo innanzitutto e qui arriverà anche l'amore quello che abbiamo chiesto dobbiamo innanzitutto guardare in faccia la realtà e avere il coraggio di rialzare la testa perché mai alzeremo nuovamente la testa ci metteremo in cammino mai avremo la possibilità di incrociare un nuovo sguardo di riconoscerci in qualcuno quindi riusciremo sì solo se lo faremo cioè per il contesto la situazione è già chiusa siete voi che non dovete rimanere vincolati e soprattutto all'orizzonte c'è anche una condizione positiva per quanto riguarda la relazione chi possiede questo mazzetto di carte le carte di Osho sa che nel mazzetto ci sono due carte identiche con la stessa raffigurazione ed è questa una si chiama gli amanti e uno lo stress qui abbiamo la carta positiva e quindi vedo una buona risoluzione per quanto riguarda una nuova situazione affettiva tra l'altro ora sto notando per la prima volta che sullo sfondo c'è anche un'indicazione che sembra la bandiera italiana anche per la posizione e prendiamola anche come una buona carta per la situazione che stiamo vivendo ci sarà un recupero un recupero di un qualcosa di nuovo il 3 è l'imperatrice questa donna che deve osare guardate qui come state abbracciando quest'albero con tanto più amore rispetto alla carta in cui appoggiandovi state stringendo questo bastone vi viene chiesto un atto interiore di accettazione di quello che è stato per trasformarlo in qualcosa che sarà ma sarà molto più bello di quello che avete lasciato vi state proprio lo state cingendo con amore e rimanate una luce bellissima in questa carta allora e cosa abbiamo un bel set del carro un movimento e una proiezione vi capiterà sicuramente di incontrare qualcuno però un suggerimento è un'avvertenza fate attenzione affinché sia un nuovo inizio su questa persona non etichettatela innanzitutto non proiettate né quello che vi è accaduto né l'idea l'ideale delle persone che avete incontrato qui bisogna giocare senza maschere e per iniziare una situazione che sia realmente positiva dal punto di vista della coppia dovete andare senza filtro cioè voi ad incontrare un altro essere umano a guardare negli occhi un altro essere umano ad accettarlo per quello che potrebbe essere senza sperare che sia per come lo desideriamo perché secondo me entrerà nella vostra vita una persona che forse all'apparenza mai avreste ritenuto interessante per voi scoprirete invece che è la persona a voi più adatta è anche quella che vi amerà di più forse anche una persona che conoscete alla quale avete prestato poca attenzione cari signori cari signori qui dobbiamo crescere in saggezza dobbiamo crescere in saggezza dobbiamo rialzare la testa e ricollocarci sul nostro trono però va detto una cosa la spinge che in questo mazzetto di carte è una delle due che tira avanti il carro una bianca una nera qualcosa continua a rimanere nel vostro inconscio quindi sicuramente quello che voi riuscirete a chiudere nell'armadio perché ci riuscirete non sparirà mai vi deve rimanere come monito un qualcosa con il quale confrontarvi per non incappare più nello stesso errore perché ricordiamocelo questa prima variante ci si è tirata da sé dentro questa situazione accettando anche il rischio di diciamo soffrire quindi abbiamo in mano le chiavi per aprire questa porta e andare avanti non c'è bisogno di qualcuno che venga a farlo per noi e abbiamo anche tutto quello che abbiamo imparato a livello teorico qui a nostra disposizione siamo proiettati ancora al passato e al ricordo e quindi ad essere sinceri per questa prima variante possiamo dire che tutto verrà chiuso nell'armadio se noi veramente sceglieremo di farlo perché in realtà per il contesto la situazione è già chiusa da tempo ci dobbiamo rialzare di metterci in cammino arriverà sì un nuovo amore ma tutto quello che avremo sarà esito e frutto di quello che noi faremo effettivamente concretamente va bene ragazzi prima variante andata io faccio un minuto di pausa confesso bisogno di un bicchiere d'acqua interrompo il video ma ve lo reaziono da così osservate bene le carte così come si dice i complottisti si renderanno conto che io non le sposto e ci vediamo tra un secondo tanto poi voi non vi renderete conto perché il video verrà montato uno dopo l'altro e quindi non dovrete aspettare a tra un attimo riprendiamo se sentite in sottofondo tutto uno strano rumore anche bello però poco chiaro perché si tratta di sax di violino di chitarra e anche addirittura penso di pentole battute con i coperchi è il momento del flash mob a Roma tutti affacciati alle finestre a suonare facciamoci sentire ci siamo tutto andrà bene e niente appuntamento anche domani a Roma alle 6 e anche dopo domani dalle finestre chiunque ha uno strumento può suonare o cantare o salutare il vicino di fronte perché è vero dà tanto un po' l'aria di rivolta carceraria come quando sbattono i bicchieri carcerati nelle prigioni però ce la possiamo fare soprattutto con l'ironia con l'ironia è una grande forza di volontà perché questo momento ci costringerà per forza di cose a dover ascoltare di più la nostra interiorità nel bene e nel male facciamone quindi occasione per guardarci in volto e risolvere tante situazioni che magari di solito mettiamo nell'angolo perché la quotidianità con la sua fretta le sue preoccupazioni ci dà un alibi per non affrontarle non è che ci costringe a non affrontarle non è neanche una scusa ma è veramente un alibi è un vero e proprio alibi va bene andiamo avanti abbiamo detto che oggi l'interattivo deve essere fatto veramente con tempo e tranquillità vediamo la seconda variante se riusciremo a chiudere nell'armadio il ricordo ad andare avanti ad avere qualcosa di nuovo bellissima questa carta si chiama dell'intenzione esterna e recita il mondo si prende cura di noi avete presente la frase il passo nel Vangelo dove si dice ma se i giri dei campi vestono meglio di Salomone e anche gli uccelli che volano nel cielo non si preoccupano perché in fondo hanno sempre sono anzi lo ricordo male se sia gli uccelli che i giri dei campi sono rivestiti meglio di Salomone e comunque vivono sereni nonostante tutto perché vi preoccupate voi vi vede il presente perché domani ha già i suoi affanni ecco ora qualcuno un po' più ferrato di me perché la mia memoria potrebbe radirmi sicuramente saprà commentare e riportare il passo giusto però il succo della questione è per quanto tu possa portare un dolore dentro di te ricordati che il fatto stesso di percepirlo vuol dire che c'è qualcuno che lo percepisce e se tu ci sei puoi fare puoi fare con le gambe puoi fare con il pensiero magari mi si può dire no io ho un gravissimo problema non posso addirittura muovervi come stiamo vivendo adesso bloccati dentro casa oppure qualcuno mi dice no io sto male ho un handicap non posso nemmeno correre con le gambe non puoi capire non puoi darmi questo consiglio perfetto e allora io vi consiglio di ascoltare la canzone di Vecchioni ti insegnerò a volare mi pare sia questo il titolo che richiama la vicenda di Zanardi che noi finché siamo vivi e siamo sempre vivi perché è l'anima eterna possiamo tirar fuori risorse ve lo dico perché la prima sensazione che mi dà questa carta è ahimè probabilmente non riusciremo mai a quietare completamente il cuore rispetto alla situazione che abbiamo vissuto e probabilmente questa situazione verrà a bussare prepotentemente sia nella nostra testa che nella nostra pancia razionalmente e emotivamente empaticamente ecco ricordati una cosa però al di là di questo dolore e di questa zavorra del fatto che tu la debba portare con te oppure di aver perso cuore gambe braccia presso questa persona non ti arrendere perché qui possiamo andare avanti quindi la prima risposta è forse non riusciremo mai a chiuderlo con l'armadio ma se non riusciamo a chiudere con l'armadio facciamo le pulizie di primavera allora svuotiamolo nonostante tutto proviamoci vediamo un po' come può essere andata la situazione allora 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 in questa relazione siamo stati totalmente conquistati ma è stata cosa facile la persona che è entrata nella nostra vita è entrata da vincitore subito anzi abbiamo forse facilitato la sua conquista perché probabilmente questa persona a noi piaceva già da un po' di tempo quando questa persona se ne è resa conto non voglio dire che ha colto la palla al balzo perché sicuramente un'attrazione c'è stata però è stata più proprio una conquista cioè tu sei una persona di valore io arrivo e ti prendo sei mia ma anche un po' con la leggerezza di chi vuole accumulare cose ma chi vuole accumulare cose e soprattutto le vuole mostrare anche agli altri quindi magari una relazione anche molto alla luce del giorno oppure se non era la luce del giorno c'erano persone che lo sapevano amici fidati una relazione comunque non nascosta del tutto ma chi vuole accumulare però vuole accumulare sempre e può darsi che questa persona non si sia limitata a giungere a voi per rimanere ma si è arrivata con il suo cavallo con la sua orda di conquistatori per poi dire adesso devo andare oltre eh sì e il modo in cui è andato via il modo in cui questa persona si è allontanata da voi è stato veloce e violento deve esserci stata comunque discussione devono esserci state situazioni di attrito e sofferenza e va detto anche che questa persona si è chiusa totalmente nei vostri confronti mentre è arrivata da voi senza nessun tipo di filtro in fondo e di armatura ma semplicemente con la sua bella corona da vincitore a ribadire il suo ruolo è andata via completamente chiusa coperta rifrattaria magari rifrattaria anche le vostre lacrime alla vostra richiesta di spiegazioni anzi più voi avete cercato di capire il perché delle sue scelte più questa persona non vi ha dato spiegazioni e ha accelerato la sua fuga anzi vi posso anche dire che potrebbe addirittura questa persona aver incaricato qualcun altro di parlare a suo nome potrebbe anche avervi fatto l'infamata di sparire da un momento all'altro e se c'era questa amicizia comune o questa terza persona che mi veniva in mente dalla carta di prima probabilmente voi avete avuto solamente questo contatto questo intermediario uomo o donna che sia con il quale cercare una spiegazione dal quale cercare una spiegazione e con il quale provare a parlare a parlare per poter capire come mai o per avere notizie di questa persona che come è andata via si è negata totalmente potrebbe avervi bloccato dai social potrebbe avervi bloccato da whatsapp potrebbe non avervi mai risposto ai messaggi alle chiamate vediamo un po' allora bello mi piace perché poi le carte sono veramente pazzesche un conquistatore eh sì un conquistatore e se guardate in fondo è come se ce ne fosse un altro che sta parlando con delle donne quindi conquistatore nell'accezione duplice del termine tanto nella vita io arrivo prendo quello che voglio quello che bramo è mio ma a me si sottomette perché se io ti conquisto io ruolo superiore a te quindi anche nella redazione non siamo tra pari e se una cosa non mi va bene posso decidere di toglierti il diritto di parola sempre in modo metaforico ovviamente oppure andare per altre terre e un conquistatore nel senso di un Don Giovanni un seduttore quindi vado da un fiore a un altro svolazzo come farfalla da un fiore ad un altro così come conquisto questa terra la lascio e ne prendo un'altra e nel frattempo mi muovo mi muovo mi muovo di continuo o perché devo andare a conquistare o perché devo fuggire vediamo un po' ed è stato veramente devo dirlo allora rispetto alla prima variante questa persona è stata anche cattiva ha fatto male e lo ha fatto sapendo di farlo è entrato come un tornado e ancora più velocemente se n'è andato ha lasciato tutto a suo quadro ma addirittura ha distrutto cioè non solo io entro nella tua vita e mi prendo cose tue dai sentimenti anche a cose reali e concrete ma io addirittura prima di andarmene ti distruggo tutto come si fa durante le ritirate nelle guerre non so se vi ricordate sicuramente qualche ricordo della storia del liceo delle superiori dell'università i russi che si ritiravano e bruciavano tutto perché poi in grande mare russia resta solo il ghiaccio e la neve quindi poi tutti capitolano in russia ecco io non solo mi ritiro torno sulle mie posizioni e me ne vado ma faccio dare a bruciata di tutto quindi distruggo anche quel poco di buono che probabilmente con te e con me noi tra di noi avevamo conquistato questa potrebbe essere stata una persona che con le parole ci è andata giù veramente pesante la parola è tagliante più di una spada l'abbiamo detto ferisce la parola la parola uccide e questa è la cosa che io sento che è andata questa persona contro di voi è andata veramente giù con parole molto pesanti scusate mi sto un po' distraendo non nella lettura ma c'è il vincerò dietro di me dalle finestre bellissimo domani vincerò che potrebbe anche essere di buon auspicio c'è stata quindi una discussione molto forte c'è stato questo contrasto evidente ed acceso e uno dei due che ha voluto comunque sovrastare l'altro e io credo che voi vi siate fin da subito arresi vi siate arresi innanzitutto perché non vi aspettavate questo tipo di comportamento e poi perché non vi appartiene la violenza né quella fisica né quella verbale quindi questa persona ci è andata giù veramente veramente con con tutta la sua forza però mi viene soprattutto la cattiveria verbale più che quella fisica perché forse fisicamente nel concreto è anche una persona un po' vigliacca scusatemi tutto bruciato come abbiamo detto tutto quello che è stato resta alle spalle ha un ricordo che fa male ha un ricordo che fa male e vi ha incatenato siete lì fermi da tanto tempo e in questo caso veramente non riuscite a rialzarvi nella prima variante abbiamo visto fin da subito che c'erano tutte le possibilità per riprendere il cammino nell'immediato e il fatto di non ricominciare era solo una scelta conscia o inconscia della persona che aveva scelto quella variante del consultante qui c'è un'effettiva sofferenza sofferenza tuttora viva e molto forte e soprattutto confermo che la cosa peggiore è che a voi non resta nulla in realtà a voi non resta nemmeno quel ricordo da nascondere nell'armadio quindi anche sbagliata la domanda nei vostri confronti perché qui non è rimasto nulla da chiudere nell'armadio qui veramente è andato tutto distrutto ecco perché forse l'indicazione iniziale di avere il coraggio di aprire questo armadio ripulirlo svuotarlo del tutto guardarlo e affrontare quello che in realtà manca forse per voi è più azzeccata dovete avere il coraggio di rendervi conto che è entrata nella vostra vita è entrato nella vostra vita un ciclone che ha portato veramente solo distruzione purtroppo accade che sia giusto che sia sbagliato non è questa la sede magari per approfondirlo però lo possiamo fare in ulteriore video ma qui veramente c'è stata una distruzione fine a se stessa un qualcosa di condannato a non poter avere una seconda possibilità un qualcosa di vedete torna l'elemento del fuoco per l'altro questa pira questo bruciare qualcosa che non ha possibilità di liberarsi che non ha possibilità di salvarsi a cui neppure la grazia è stata riconosciuta cosa dire la carta ci fa vedere tanto si tratta di una carta del giudizio la carta ci fa vedere questa persona che da sola sembra non farcela ad andare avanti infatti qui c'è come una sorta di seduta psicologica o di ipnosi ipnosi regressiva io penso che per voi la possibilità l'unica vera possibilità in questo momento per poter riprendervi e quindi rialzarvi è di affidarvi a qualcuno che vi è molto vicino la carta mi fa pensare che in questo momento avete bisogno della vicinanza di un effetto sincero dovete prendere qualcuno trovare qualcuno confidarvi con qualcuno che abbia veramente il coraggio di strattonarvi perché da soli in questo momento non ce la fate è questa la cosa è come se foste incatenati incatenati a questo dolore e state bruciando guardate contemporaneamente a questo dolore per come se voi vi trovate in questa condizione vi hanno imbavagliato vi hanno legato vi hanno lasciato lì hanno acceso il fuoco con tutta la buona volontà come fate a tirarvene fuori ecco perché c'è bisogno di qualcuno da un lato potrebbe essere e lo azzardo che in questa seconda variante c'è già una relazione ufficiale magari avete un compagno una compagna un marito una moglie che all'oscuro di tutto probabilmente è stata messa in un angolo per far spazio a questa nuova conoscenza e ora dovete veramente recuperare il rapporto con questa persona che probabilmente secondo me pur non avendo capito nulla qualcosa è intuito ma che vi ama sinceramente è l'unica possibilità che avete nell'immediato nell'immediato e non in assoluto perché poi comunque il dolore evolve si trasforma diventa altro e dopo un po' lo stesso veleno diventa antidolo di se stesso quindi alla lunga ce la farete però se sentite la necessità di riprendere il cammino adesso non volete stare più in questa condizione di sofferenza dovete recuperare gli affetti cari quelli dentro il focolare domestico eh sì dovete recuperare quell'amore che si è raffreddato e spento già da molto tempo io penso che voi vi sentiate voi che state guardando questa variante la state guardando proprio nel presente della vostra sofferenza qui non abbiamo a che fare con qualcuno che è già elaborato metabolizzato e si chiede riuscirò perché ancora c'è questo ricordo vivo nella mente qui siamo proprio nel pieno della sofferenza non riusciamo a vedere una via d'uscita non ce la facciamo a rialzarci a cominciare la giornata ci stiamo piangendo addosso nel frattempo però abbiamo il nostro letto il talamo la nostra camera vuota ecco non scacciare gli affetti che avete intorno perché qui veramente è il caso di porsi delle domande magari abbiamo sbagliato o meglio nessuno sbaglia perché tutte le esperienze che si fanno servono per capire qualcosa per crescere e anche per bruciare un karma che magari esiste con una persona nel bene e nel male a volte noi soffriamo perché una persona entra nella nostra vita aveva un credito da noi e lo ha riscosso solo che noi nel presente non ci ricordiamo questa cosa e soffriamo l'impatto emotivo della situazione che è accaduta da poco ecco qui le carte ci dicono voi avete la possibilità di recuperare una serenità però appellandovi a un amore che è dentro la vostra casa non fuori della vostra casa vediamo un pochino fare sì fare farvi forza con gli affetti cari questa è una carta che parla di affetti materni l'amica la figlia la madre creare un cerchio virtuoso di energia buona sbloccare questa situazione ma non da soli quello che ribadiscono tutte queste carte per questa seconda variante è possiamo sbloccarci ma con l'aiuto di qualcuno è come se fossimo in anemia di sentimenti dobbiamo prima prendere degli integratori e questi integratori sono fatti di amore di contatto ci dobbiamo dare la mano dobbiamo fare gruppo allora vediamo un po' poi saprete sicuramente voi contestualizzare meglio conoscendo bene la situazione allora e vi faccio anche vedere una cosa a voi dispiace terribilmente andare a restituire questa situazione che vi ha fatto soffrire questa è una carta che fa pensare tanto ad un imbarco ma a me fa pensare sempre lo dico perché veramente mi fa pensare a questo al monte dei pegni cioè non sono mai stata in un monte dei pegni per fortuna però sto andando ad impegnare o a riprendermi un qualcosa cos'è che io ho lasciato su questo monte dei pegni quando ho iniziato questa storia la mia dignità il mio amor proprio ecco ti sto riportando la moneta che mi hai dato ti sto ridando la mia moneta ho deciso di restituire quel qualcosa che poi in fondo mi ha fatto soffrire non gioire vi voglio la mia dignità sono triste sono provata non ce la faccio però mi sono convinta oppure semplicemente sto venendo a pagare e devo pagarlo con quello che sto vivendo e con la mia tristezza quello che ti ho preso che ho preso da te quindi questa situazione che ho vissuto allora però questa cosa vi crea resistenza quasi a voler dire ora giro me ne vado ma poi in fondo dovete fare attenzione a una cosa questa seconda variante è più complicata della prima perché ci sono tanti sentimenti contrastanti allora cercando di fare un punto a metà quasi metà variante un po' più di metà variante qui c'era una situazione sicuramente d'affetto dentro casa questa situazione d'affetto è stata smossa e messa da parte per un qualcosa di nuovo che è entrato questo qualcosa di nuovo che è entrato è entrato da vincitore cioè ha trovato la pappa pronta gli abbiamo dato tutto anche di più ha conquistato e è andato a conquistare altro quando rivoleva la sua libertà noi ci siamo opposti non ha sopportato la forzatura ha scagliato contro di noi tutta la rabbia le parole taglienti se ne è andato non ci ha dato più spiegazioni forse abbiamo avuto una persona nel mezzo per cercare di capire siamo rimasti nel nostro dolore bloccati in questo fuoco di distruzione che ha bruciato tanto dentro di noi e tuttora brusa l'unico modo che abbiamo per sbloccarci in questo caso è appellarci e recuperare un affetto a noi vicino una madre una sorella un'amica o il talamo nuziale proprio il compagno la compagna il marito la moglie e dobbiamo decidere di sbloccare questa situazione lasciando uscire la rabbia e l'energia e restituendo seppur metaforicamente quel qualcosa che è trattenuto ci fa soffrire tanto qui non è questione di chiudere nell'armadio ricordo qui è questione di aprire l'armadio e bruciare tutto quello che c'è dentro dargli fuoco rispondere al fuoco con il fuoco metaforicamente non bruciate casa e vi dirò anche non passerà subito la delusione ma vi dovete forzare a fare cose vedete questa carta questa su di coppe siamo qui tristi da soli avremmo dovuto condividere questo momento con l'altra persona e beh non c'è che facciamo rimaniamo a piangerci addosso a casa vogliamo rimanere così no ci dobbiamo vestire di tutto punto e andiamo a fare anche una cosa che normalmente non rientra nella routine di tutti i giorni qui non stiamo a lavoro qui stiamo facendo un picnic cioè per fare il picnic vuol dire che vi dovete preparare da bere da mangiare tutto preparare quello che serve regarvi lì a fare il picnic e sopportare anche di stare soli lì a fare il picnic ecco sarà lenta l'emancipazione da questa sofferenza ma avverrà avverrà e vediamo cosa accadrà dopo però dovete andare dovete muovervi dovete aver fiducia anche se non vedete assolutamente né una rete che possa parare questo vostro salto nel vuoto né una meta cioè siete sospesi nel nulla ma tanto voi state vivendo sospesi nel nulla state soffrendo sospesi nel nulla ci vogliamo provare lo proviamo a spiccare questo salto sempre metaforico d'altronde se qualcosa l'abbiamo persa per sempre piangerci addosso non ce la restituirà e noi questa cosa secondo me dentro il nostro cuore la sappiamo l'abbiamo capita forse dobbiamo passare ora attraverso la rabbia quella rabbia che si rivolge a se stessi quando ci si sente colpevoli di un'azione che è andata a farci del male e non del bene ma anche quello è un passaggio spalancate le braccia abbracciate l'orizzonte e il futuro dovete accettare e metabolizzare un semplice concetto questa persona è entrata ha fatto i suoi comodi in parte glielo ho concesso se ne è andata piangersi addosso adesso non serve a nulla devo prenderne consapevolezza ricentrarmi in me stesso me stessa perché se non divento libera non potrò più accogliere nulla di nuovo poi nel futuro dovrò anche imparare un pochino con l'intuizione e il terzo occhio a capire a cosa vado incontro quello si però mi devo centrare mi devo ripulire e infatti la ruota nel suo movimento fa pensare tanto dirò un'eresia magari per alcuni al cestello della lavatrice quando lava i panni però d'altronde se noi non mettiamo tutto questo bucato in una sorta di lavatrice figurata dentro di noi non laviamo tutto ma fino a gettare fuori tutta l'acqua sporca laviamo con la candeggina ci ripuliamo tutto questa lavatrice vi serve per aprire con l'armadio metterci dentro tutti i ricordi e centrifugarli tutti anche perché innanzitutto per metterli li dovete prendere e guardare uno per uno quindi affrontare poi li mettete lì li ripulite con la forza che ci vuole un risciacquo due risciacqui tutto il tempo necessario poi li dovete nuovamente riprendere uno per uno stendere quindi sarete costretti ad uno ad uno ad affrontare tutte queste situazioni però d'altronde se non lo facciamo quell'armadio noi non avremo più il coraggio di aprirlo e allora che facciamo rimaniamo tutta la vita così allora noi non apriamo più l'armadio restiamo con le nostre sofferenze e poi che non riusciamo più a aprire l'armadio non ci vestiamo ci mettiamo neanche le scarpe i calzettini niente tutto nell'armadio ma noi non lo vogliamo vedere e rimaniamo come siamo adesso però in senso negativo senza la la prospettiva di tornare a passeggiare fra un mesetto quando il coronavirus sarà passato cioè io non mi muovo più dalla mia camera da letto adesso lì a piangermi addosso per sempre vediamo sotto quale energia ci muoviamo l'energia dell'amore e soprattutto della scelta perché anche qui è necessario compiere un atto di scelta e aprirli quegli occhi dovete aprire gli occhi e accettare che sia andata per come è andata e non viverla come una condanna ma solo come un qualcosa che è accaduto lungo il vostro cammino potete prendere una nuova strada potete riconciliarvi nell'amore dei vostri affetti vi state difendendo e avete forse chiuso il cuore allora accettate semplicemente di aspettare il tempo necessario anche se la carta ci dice c'è bisogno dell'aiuto di qualcuno una pacca sulla spalla guardate questa volta la carta degli amanti senza volervi vedere per forza la scelta tra due persone la solita interpretazione che se ne dà guardate la delicatezza del gesto di queste due mani che toccano questa persona nel centro e la delicatezza anche dell'espressione di questa persona che in fondo ha una sua sofferenza però c'è tanta umanità in questo cercare di chiudersi di proteggere il proprio cuore questa è l'immagine che secondo me riassume meglio i sentimenti della persona che ha scelto la seconda variante se non riuscite a vedere con gli occhi chiusi il vostro nuovo orizzonte lasciate che qualcuno difidato vi prenda sotto braccio apritevi a questa persona e lasciate che sia un pochino come il cane per i non vedenti che vi protegga perché questa persona comunque non è che deciderà per voi dove dovete andare non è che il cane dei non vedenti decide guarda oggi ti porta al supermercato lascia che siate voi a decidere però poi il cane fa in modo che voi pur non vedendo evitiate di essere investiti di inciampare al marciapiede cioè vi conduce dove voi volete con la cura e l'amore necessari per proteggervi e in questo momento quello che vi serve di più non è chiusura ma protezione e soprattutto il consiglio di aprite quell'armadio pulitelo svuotatelo e prendiamola un pochino così con ironia utilizzate questa occasione per darvi una giustificazione andare a fare shopping sorridete tiratevi fuori dalla vostra camera da letto e anche se quel picnic vuol dire andare a celebrare se stessi da soli celebrate voi stessi anche la vostra malinconia e come dice Osho siete gli osservatori non il sentimento osservate la malinconia perché voi non siete malinconici o una malinconia voi siete coloro che la guardano negli occhi io vi ringrazio e al prossimo interattivo grazie a tutti